Stesso ci è detto sul teatro di Mariupol, ci ha scritto bambini, l'hanno bombardato e poi hanno detto che c'era il battaglione di Azov e invece non era vero. Poi lo hanno detto su queste immagini, prima dicendo che non c'erano cadaveri, poi dicendo che erano cadaveri di ucraini uccisi, che collaboravano con i russi, uccisi da altri ucraini. Quindi hanno mentito costantemente, ci sono condomini bombardati, ci sono ospedali bombardati, asili. Io credo che noi non avevamo bisogno di bucia per dire che Putin sta compiendo dei crimini, sta colpendo i civili, oltre a considerare quella guerra una guerra che mira a colpire la democrazia e la libertà di un popolo, un'invasione, semplicemente perché quel popolo voleva la sua libertà di scegliersi la via democratica. Quindi buce semplicemente la conferma di un criminale che sta colpendo i civili e non sta facendo soltanto una guerra militare.